Cari amici, bentrovati, un saluto da Giuseppe Caffulli, bentrovati agli amici del Festa del Francescano e a tutti coloro che ascolteranno e vedranno questa nostra trasmissione dedicata alla situazione che la Terra Santa sta vivendo in questo momento. Tutti sappiamo che dal 7 ottobre è in corso un conflitto ancora più sanguinoso di quanto non lo sia stato in passato, un conflitto che occupa gran parte delle pagine dei giornali e delle televisioni, con particolari davvero raccapriccianti e con delle ricadute che davvero ci preoccupano molto e che non smettono di interrogarci anche su quale può essere appunto il futuro di questa Terra e il futuro di queste popolazioni. Intanto, appunto oltre a ricordare a tutti coloro che hanno a cuore la Terra Santa di non cessare di interessarsi di questa Terra perché comunque è la prima cosa appunto quella di conoscere le dinamiche che capitano in quelle terre, io do intanto il benvenuto anche a Padre Dino Dozzi che è il direttore scientifico del Festival Francescano di Bologna che come edizione Terrasante, come rivista Terrasante ci ha ospitato molte volte in occasione degli eventi che vengono tenuti ogni anno a fine settembre in quella città, Padre Dino Dozzi è anche direttore del Messaggero Cappuccino e gli lascio la parola per un saluto e poi inizieremo questa nostra trasmissione. Bene, grazie Giuseppe, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando. San Francesco, 800 anni fa a Damiata in Egitto durante la Quinta Crociata, San Francesco trovò il modo di andare pacificamente a dire le sue ragioni al sultano e condottiero dell'esercito avversario. Anche in quella guerra si lottava per i luoghi sacri. Per i due Francesco, quello santo e quello papa, il primo luogo sacro da difendere da parte di tutti e sempre sono gli uomini, le donne, i bambini, gli innocenti che da sempre pagano il prezzo più alto delle guerre in termini di sofferenza. Il Festival Francescano, che continua tutto l'anno nelle piazze digitali, ha voluto fortemente organizzare questo webinar in collaborazione con Terra Santa e chiedendo la testimonianza del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca dei latini a Gerusalemme, francescano e pastore di quella comunità cattolica presente nei due campi di battaglia. È una guerra antica questa, dai tanti volti, dalle tante interpretazioni contrapposte, dove da sempre si dice pace e si intende vittoria, se non addirittura l'eliminazione fisica dell'altro, in una escalation continua di vendette e rappresaglie che pare non abbiano fine. Il Vangelo, magari letto con San Francesco, non ha proprio nulla da suggerirci? Ascoltiamo. Ecco, già Padredino ha anticipato quella che è uno dei piatti forti di questa nostra puntata. Intanto abbiamo appunto la fortuna di avere questa testimonianza video che ci ha regalato il al Pizzaballa e che manderemo tra poco. Intanto però saluto anche Fulvio Scaglione che con noi dialogherà poi di quello che sta succedendo in queste settimane in Terra Santa e che appunto ringrazio per la sua presenza, tra l'altro ci ha raggiunto dopo alcuni giorni passati in giro per l'Italia a parlare proprio di queste cose, per cui lo ringraziamo anche per la fatica di star dietro anche a questa nostra richiesta. Ecco, Fulvio Scaglione, giornalista, già corrispondente da Mosca, inviato, vice direttore di Famiglia Cristiana per molti anni e uno dei maggiori esperti di Medio Oriente che oggi ci sono in Italia. Quindi lo saluto, lo ringrazio e poi Fulvio dopo la testimonianza del carnet al Pizzaballa avremo modo di dialogare appunto su alcune questioni che toccano oggi il Medio Oriente. Grazie per essere con noi. Intanto allora la regia, se vuole, può mandare il contributo che ci ha mandato. Grazie a te e grazie a tutti coloro che stanno all'ascolto. La regia può mandare il contributo appunto del carnet al Pizzaballa. Un caro saluto ai fratelli e alle sorelle delle famiglie francescane legate al Festival Francescano e a tutti quelli che ci seguono, insomma amici. Grazie per la vostra vicinanza a questa piccola chiesa di Gerusalemme e a quello che stiamo vivendo, che tutti stanno vivendo, non solo la chiesa ma tutte le popolazioni di questa terra. Dai primi di ottobre, il 7 ottobre siamo ripiombati dentro una spirale di violenza incredibile. Io che sono qui da più di 30 anni e la prima volta che vedo una situazione così dura dal punto di vista delle relazioni, oltre che al problema del conflitto, dell'aspetto militare vero e proprio. I fatti sono noti, quindi non voglio entrare dentro la cronaca che conoscete già tutti molto bene, meglio di me. Ecco, non sto a ripeterle. Le questioni politiche lasciano il tempo che trovano, anche perché di solito poi quando si parla di Terra Santa, delle questioni politiche di Terra Santa ciascuno ha già la sua opinione, come vediamo, e filtra tutti gli eventi dalla sua posizione precostituita, quando invece la realtà qui è molto complessa, quindi nega in un certo momento, in un certo senso, la complessità propria di questo Paese. Ecco, è un approccio parziale, come l'ho definito molte volte, che proprio in questi giorni sta diventando veramente molto evidente in tutto il mondo, non solo qui in Terra Santa. Siamo chiamati qui proprio con forza, siamo quasi, non dico obbligati, ma insomma siamo chiamati con forza a dover dire con chi stai contro chi stai, scegliere per forza il campo e la Chiesa non può fare questo, non si tratta di essere neutrali, non si può rimanere sospesi nel giudizio, nelle opinioni, nelle cose che si dicono o dentro questa situazione così lacerante, ma anche bisogna evitare di cadere nel facile gioco o di qui o di là, ecco, dove invece la complessità, come ho detto, è così evidente. E cadere nel gioco del nemico, se dici una cosa diversa, poi stiamo vivendo una situazione molto difficile, se dici una cosa diversa da quello che il tuo interlocutore si attende, diventi immediatamente ostile, è molto difficile lavorare così. Quello che stiamo vedendo è che questo conflitto dal 7 ottobre, ma adesso soprattutto quello che sta accadendo a Gaza, ha scatenato un mare di odio incredibile, di rancore, di vendetta, è molto difficile riuscire a parlare in maniera ragionata quanto più possibile, intervenire, dire qualcosa perché non c'è la disposizione ad ascoltare. Ecco, loro cosa fare in queste situazioni così dure? Io ho smesso di parlare ai giornalisti, quindi ho accettato così proprio per amicizia di parlare a voi, proprio perché ho visto che qualsiasi cosa tu dica viene interpretata in maniera sempre molto parziale di qua e di là. In questo momento credo che sia importante innanzitutto restare qui, essere presenti, è molto difficile parlare in questo momento, ma è importante esserci. Poi non devo dimenticare che c'è una comunità cristiana qui, io sono il pastore di questa comunità, quindi almeno di quella cattolica, ma lavorando insieme anche con le altre chiese, cercare di intervenire e sostenere le nostre comunità e i nostri fratelli cristiani che sono a Gaza. Questa è la prima cosa più importante, cercare di sostenerli con l'aiuto umanitario per quanto possibile, dentro queste circostanze molto complesse, sono sicuro che tutti avrete visto i video dai social media di quello che sta accadendo di là e anche di quello che è accaduto alla nostra comunità cristiana, sono bravi, si stanno comportando molto bene, nonostante la tensione incredibile nella quale vivono ogni giorno, circondati da bombardamenti sempre più forti. L'altra cosa che dobbiamo fare è curare le relazioni, in questo momento con le istituzioni è molto difficile parlare, ma ci sono ancora tante persone in tutte le comunità che ancora coltivano un desiderio di relazione, di incontro, cercano di mantenersi liberi da questo mare di odio di cui parlavo e credo che sia importante mantenere le relazioni con loro, verrà un momento in cui dopo tutto questo conflitto, questa guerra di cui avremo bisogno di loro. Poi bisogna invitare la propria comunità, la comunità cristiana, come ho scritto anche in una lettera, compresa e anche incompresa come era prevedibile, partire dal Vangelo e concludere il Vangelo. Siamo cristiani innanzitutto e abbiamo il dovere, l'obbligo in un certo senso di guardare quello che stiamo vivendo qui con gli occhi di Cristo, con gli occhi del Vangelo di Cristo, il Vangelo che è Cristo. Parlo di Francescani o comunque un ambiente francescano. San Francesco 800 anni fa, lo sappiamo tutti molto bene, fece un gesto molto importante, era anche loro un momento di conflitto, di guerra, sembra che poco sia cambiato da allora, ma San Francesco è stato capace di superare le barriere mentali innanzitutto, prima ancora che quelle religiose, politiche o militari e anche se non ha risolto i problemi del tempo, l'incontro con il sultano è stato significativo perché ha indicato un metodo, un metodo dell'incontro appunto. Incontrare significa avere ancora il desiderio di ascoltare l'altro, fare spazio all'altro, significa anche per fare spazio all'altro rinunciare qualcosa di sé, è un metodo molto importante di cui avremo bisogno qui, è un momento in cui non si riesce ad ascoltare l'altro, ciascuno ascolta le proprie opinioni, le proprie ragioni solamente. Siamo in un contesto di conflitto quasi permanente dove la religione, la politica, l'identità nazionale si mischiano creando un genebraio dal quale è difficile uscire e da generazione in generazione molta gente è stata nutrita con sentimenti di sospetto, di sfiducia, di rivalsa, di disprezzo per tutto quello che è diverso da sé. Le narrative sono state costruite una contro l'altra e questo rende molto difficile anche trovare spazio qui in questo luogo per incontri, si fanno gli incontri interreligiosi fuori di qui, fuori dalla Terra Santa, mentre la Terra Santa è già più complicato proprio per questa ragione. Molto spesso si confonde la pace con la vittoria ed è un rischio, un rischio, un equivoco che c'era anche ai tempi di San Francesco e che c'è ancora oggi forse non solo qui in Terra Santa. Abbiamo allora noi, soprattutto i francescani che sono qui, ma tutti, tutta la Chiesa ha questo dovere insomma, ecco di, innanzitutto bisogna convertirsi e chiamare la conversione. La pace, intesa come visione integrale della vita, come desiderio di fraternità, di accoglienza, esige proprio questo cammino di conversione, esige anche di fare la verità, che non è semplice. Fare la verità significa riconoscere il male subito e il male commesso, cosa mai facile, mai scontata. Ecco, però è necessario. Però la verità diventa completa quando incontra anche il perdono. La verità senza il perdono diventa pretesto per rivalsa. La verità deve incontrare il perdono proprio per avere uno sguardo completo e libero da queste situazioni. Credo che questa sia la missione della nostra Chiesa oggi. Cercare l'incontro di ogni costo, superare le barriere etniche, religiose, nazionali, politiche, che non significa cancellare le identità che servono sempre, ma non considerare l'identità o le appartenenze come dei baluardi inaccessibili. Come già detto nella mia prima omelia a Santa Maria Maggiore a Roma qualche giorno fa, in tempi ancora non sospetti, la Chiesa deve essere il luogo dove si mettono da parte i calcoli politici e si cerca invece di essere un luogo di accoglienza, di fraternità, di amicizia, di incontro, di ascolto, di ricerca dell'altro, dove il fratello non è un nemico ma è un fratello appunto, un fratello e una sorella, come voleva proprio San Francesco. Insomma ecco allora il mio augurio è questo, che voi possiate lì dove vi trovate, non cadere in questo diabolico gioco del chi ha ragione e chi ha torto, ma di essere vicino, senza giudicare che non significa non avere un giudizio, non avere uno sguardo libero su quello che accade, ma più che non giudicare direi di non condannare, di non puntare il dito, di non creare occasioni di odio, ma cercare sempre di costruire, di essere persone che costruiscono perché questo è quello che come Chiesa dobbiamo fare qui interessanti nel mondo. Grazie della vostra vicinanza, dalla vostra preghiera e spero che un giorno possiamo incontrarci qui a Jerusalem in pace e in serenità. Tanti auguri di ogni bene. Ecco intanto un ringraziamento ancora al Cardinale Suabettitudine per Battista Pizzaballa per aver voluto condividere con noi queste sue riflessioni, per aver voluto testimoniare quello che sta vivendo la Chiesa di Terra Santa in questo momento. Io vorrei partire proprio con Fulvio riprendendo alcune delle questioni che il Cardinale Pizzaballa ci ha posto. Il tema di un conflitto assolutamente divisivo. Sappiamo perfettamente che il rischio vero è quello di schierarsi come delle tifoserie calcistiche da una parte e dall'altra senza approfondire le ragioni, ma soprattutto senza vedere le ragioni che stanno alla base e i torti. Quel giorno fa un ex presidente americano come Barack Obama ha detto chiaramente che in questa guerra non ci sono innocenti, tutti hanno delle responsabilità, hanno tutte delle colpe. Tutti hanno anche delle ragioni da vantare, quindi bisogna un attimino cercare di guardarle per quello che sono. Noi siamo cresciuti, mentre il Cardinale Pizzaballa parlava mi veniva in mente l'adagio latino che ci hanno insegnato al liceo, se vuoi la pace prepara la guerra, ma qui in realtà siamo arrivati al punto in cui se vuoi la pace convertiti, se vuoi la pace cerca di trovare un'alternativa alla gestione dei conflitti così come siamo abituati a portarli avanti. Ecco, quello che stiamo vivendo oggi nel conflitto Medio Oriente ci porta anche a una riflessione su un prezzo di cui noi non riusciamo forse a renderci conto. C'è sicuramente un prezzo molto alto pagato dalla popolazione in quelle terre. Hamas, questa associazione, questa formazione terroristica ha compiuto un'opera sicuramente in nessun modo giustificabile. Ricordiamoci che appunto il conflitto scoppiato il 7 ottobre è tra una formazione terroristica e lo Stato di Israele, una formazione terroristica che non rappresenta in toto la Palestina, rappresenta appunto una fazione politica con connotazioni religiose che ha una sua strategia sulla Palestina ma che non corrisponde in toto ai desideri del popolo palestinese. E poi ricordiamoci la reazione di Israele con oltre 10.000 morti ormai in questi giorni sulla striscia di Gaza che si sta trasformando davvero in un grande cimitero. Questo è il prezzo che paga appunto la popolazione, le due entità che si confrontano ma poi c'è anche un peso, scusa, un prezzo che sta pian piano venendo fuori a livello regionale e anche non solo e di questo vorrei discutere con te il ritiro dell'ambasciatore della Giordania da Tel Aviv, le ripercussioni diplomatiche, il ruolo dell'America che sembra non così forte come in altre occasioni, l'oscuramento di altri conflitti. Questa guerra sta in qualche modo mettendo sotto traccia l'altra grande tragedia, quella tra la Russia e l'Ucraina. Ecco Fulvio, come vedi tu la situazione? Quali sono i prezzi che si stanno pagando anche a livello internazionale rispetto a questa guerra? Ma io credo che un concetto fondamentale dell'intervento di sua Beatitudine Vizzaballa sia stato quel passo in cui lui esorta a non confondere l'idea della vittoria con l'idea della pace. Perché se c'è una lezione che noi possiamo trarre dal conflitto tra Israele le palestinesi è che tutti perseguono la vittoria e nessuno ha la pace, che sarebbe l'unica vera vittoria per tutti, sarebbe la situazione a cui tutti ambiscono. Quindi io credo che questa riflessione valga non solo per la situazione specifica, cioè per la tragedia a cui stiamo assistendo, ma valga un po' per tutta una politica che si svolge da molti decenni nell'area e che è una politica che ha sempre piuttosto perseguito la vittoria. Ci sono state le guerre, ci sono stati i conflitti. È inutile nascondersi che negli ultimi tempi, ormai ultimi lunghi tempi, la causa palestinese non ha più avuto gli appoggi che aveva prima. La causa è stata abbandonata da quelli che erano i suoi sponsor e il popolo anche, soprattutto, che è quello che ci interessa, è stato abbandonato a se stesso. Non ha più quegli appoggi che si vedevano, e non penso tanto ai paesi arabi che metterei più nella categoria degli sponsor, ma, per esempio, in Europa. Le manifestazioni di questi giorni sono generate, che vediamo un po' dappertutto, pro-palestinesi, sono generate soprattutto dall'orrore per quanto sta accadendo a Gaza, perché per anni e anni di Palestina, palestinesi, del loro destino non si è proprio parlato. E questo vale anche per i protagonisti specifici, perché non dobbiamo dimenticare appunto che Hamas non ha mai smesso di predicare la lotta armata e la riconquista dei territori, non tanto per i palestinesi, perché nello Statuto di Hamas viene detto, i territori che erano dell'Islam, che erano stati conquistati a suo tempo dall'Islam, devono essere riportati all'Islam, non c'è scritto, devono essere restituiti ai palestinesi. Israele ha perseguito a suo modo una vittoria totale, perché la politica degli insediamenti è proseguita dal 1967 a oggi in maniera ininterrotta. Non c'è governo israeliano che non abbia aumentato il numero dei coloni israeliani in quelli che, per il diritto internazionale, ex risoluzione ONU 242 del 1967, sono territori occupati. E, idem come sopra, l'esperimento dell'autorità nazionale palestinese non è mai decollato, anche perché è stato ciclicamente preda di pulsioni radicali alle quali in realtà in Cisjordania nessuno crede veramente, tranne delle frange che ovviamente esistono e che però hanno in qualche modo contribuito ad allontanare una vera soluzione che già per i palestinesi, che sono la parte più debole del conflitto, sarebbe stata molto difficile. Quindi quello che sta succedendo in ambito internazionale, io credo, è che siamo in qualche modo arrivati alle battute finali di questo tipo di politica. Siamo andati a sbattere, come era evidente che prima o poi sarebbe successo, perché tutti sapevamo che i palestinesi non sarebbero scomparsi, non sarebbero andati a vivere su Marte o non avevano intenzione di trasferirsi in qualche resort solo per andare incontro ai desideri di Israele. E tutti sappiamo che la politica dello scontro è una politica perniciosa per i palestinesi. Dal 1948 a oggi non c'è stato un conflitto grande o piccolo in cui i palestinesi siano stati impegnati che abbia migliorato la situazione dei palestinesi o dato ai loro rappresentanti politici un maggiore agio per la loro azione. È successo esattamente contrario. Quello di cui forse possiamo in qualche modo per il momento, non dico rallegrarci perché in questa situazione non si può dire, ma in qualche modo ci fa tirare un piccolo sospiro di sollievo e ci dà qualche speranza in più è il fatto che a quanto pare il tanto temuto allargamento del conflitto per il momento non si sta verificando perché l'Iran fa fuoco e fiamme verbali ma non si muove. Il lesbollah libanese, anche lì abbiamo visto il discorso di Nasrallah, molte parole aggressive ma poi nulla. Dalla Siria, in Siria non succede nulla. La mia interpretazione è che questo avviene anche perché da lungo tempo c'è un'intesa molto cordiale tra la Russia di Putin e Israele di Netanyahu. Sintetizzo al massimo, Putin in qualche modo tiene, non dico tiene a bada, ma calma i bollenti spiriti del fronte diciamo Iran, Esbollah, cioè del fronte con cui la Russia ha dei rapporti, delle buone relazioni e Israele in qualche modo appunto aiuta la Russia a evitare che l'influenza dell'Iran si estenda troppo perché anche alla Russia l'influenza iraniana fa comodo ma entro certi limiti. Non per caso secondo me Israele riesce a bombardare tranquillamente le basi dei Pasdaran e delle milizie filo iraniane in Siria nonostante che la Russia sia presente in Siria con base militare importanti e soprattutto con un sistema di difesa antiaereo, il sistema S-400 che è uno dei più avanzati del mondo. Evidentemente c'è un accordo se i jet di Israele possono andare avanti e indietro e i russi non reagiscono. Io credo che questo sia il quadro. Il prezzo però è un prezzo altissimo quello che stiamo pagando. Ecco ma Fulio mi riferisco anche per esempio al rigidimento delle relazioni con gli altri paesi arabi. Sappiamo che come dire Israele anche da un punto di vista economico aveva aperto diversi canali promettenti con gli emirati arabi nel quadro degli accordi di Abramo. Insomma questo conflitto in qualche modo raffredda anche questo percorso o no? Sicuramente sì, sicuramente sì per tante ragioni. C'è anche una ragione come dire interna ai paesi arabi partirei da qua e lo si è visto bene nella risoluzione che è stata proposta dalla Giordania a nome appunto dei paesi arabi all'assemblea generale dell'ONU. Quella risoluzione che ha incontrato l'opposizione degli Stati Uniti e di diversi paesi e che ha raccolto 120 voti avrebbe dovuto raccogliere 128 per essere in qualche modo come dire promulgata. Ecco questa risoluzione dell'Italia anche. La stensione dell'Italia sì, però questa questa risoluzione che chiedeva la tregua eccetera eccetera. Riusciva a fare tutto questo senza nemmeno nominare, non dico criticare, ma senza nemmeno nominare Hamas e senza nemmeno nominare la questione degli ostaggi. Era impossibile che 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 una risoluzione di quel genere passasse e ci dice piuttosto che nei paesi arabi non c'è non si riesce ancora a prendere effettivamente le distanze da questo genere di azioni terroristiche perché c'è il intanto c'è un problema di opinione pubblica che non gradisce un eventuale come dire distacco dalla causa palestinese pur che sia e in secondo luogo c'è il forte timore che l'islamismo che abbiamo visto scatenarsi in anni non lontani possa in qualche modo rivivere. E c'è comunque l'effetto, come dicevi tu, di un riallontanamento dei paesi arabi da Israele e in generale a questo punto dall'Occidente. Non a caso quest'azione di Hamas il 7 ottobre è avvenuta proprio mentre si stava in qualche modo avviando a conclusione il processo negoziale tra Arabia Saudita e Israele ed era un processo negoziale importante perché avrebbe come dire portato nel quadro degli accordi di Abramo l'anello più forte cioè l'Arabia Saudita ed era anche però è una cosa di cui si è parlato poco secondo me un processo negoziale in cui gli Stati Uniti erano molto impegnati al punto da fare all'Arabia Saudita delle concessioni che anche negli Stati Uniti destano molte obiezioni e cioè per esempio gli Stati Uniti concedevano all'Arabia Saudita una vasta collaborazione nel settore nucleare che ha fatto dire a molti non da noi ma siamo proprio sicuri che un eventuale percorso nucleare per non dire la bomba nelle mani di Mohammed bin Salman sia molto più tranquillizzante che nelle mani degli Ayatollah e l'altra concessione che Biden era pronto a fare purché l'Arabia Saudita entrasse negli accordi di Abramo era un patto di reciproca protezione, reciproco intervento in caso di aggressione militare siccome è piuttosto improbabile che qualcuno pensi di aggredire militarmente gli Stati Uniti è chiaro che il patto funzionava soprattutto in favore dell'Arabia Saudita altra cosa che negli Stati Uniti ha fatto dire a molti ma scusate ma noi americani dovremmo trovarci a un certo punto in guerra in una guerra che non abbiamo nemmeno dichiarato noi quindi voglio dire c'è tutto un processo citavo prima Putin, Netanyahu, adesso Biden perché è tutto un processo che si complica, si arresta e naturalmente chissà quando riprenderà perché non c'è niente da fare noi occidentali pensiamo forse di essere gli unici ad avere la televisione ma le immagini di Gaza le vedono anche in tutti gli altri paesi Senti, un altro degli aspetti che sta crescendo il Papa qualche giorno fa incontrando i rabbini europei ha ribadito questo aspetto è la crescita anche di questi rigurgiti antisemiti, di antisemitismo in Europa ecco tu come valuti questa questione? un altro delle cartine torna sole di una crisi che sta diciamo in qualche modo entrando anche oppure è solamente l'occasione per i soliti pronti a in qualche modo a saltare sul carro o a sfruttare l'occasione per una questione identitaria? Ma intanto diciamoci una cosa, l'antisemitismo è un problema europeo sappiamo quello che è successo con la Shoah e anche prima dovremmo ricordarci che quando in Europa e soprattutto nell'Europa orientale c'erano i pogrom contro gli ebrei e gli ebrei erano costretti a scappare e a cominciare a inseguire il sogno del focolare in Palestina nell'impero ottomano non c'erano condizioni di eguaglianza rispetto ai cittadini musulmani ma comunque non una così chiara inclinazione alla persecuzione degli ebrei e quindi l'antisemitismo è un problema che sotto la pelle dell'Europa corre da moltissimo tempo ovviamente è stato reso, come dire, tutta la questione è diventata più complicata nel momento in cui delle forti comunità musulmane si sono insediati in Europa perché anche all'interno di quelle comunità ci sono ovviamente una maggioranza di moderati e una minoranza di non moderati, di estremisti questo è evidente vorrei però anche sottolineare una cosa e credo che non ci sia bisogno di ripetere rituali condanne dell'antisemitismo ma diamo per scontato io credo che siamo tutti assolutamente contrari alla sola idea che possa rinascere un fenomeno di questo genere però devo anche dire che in questo momento noi in Europa sui nostri media, su molti dei nostri media stiamo assistendo ad un'equazione che è pericolosa ed è l'equazione palestinese uguale a Mas perché se tu fai questa equazione che è falsa assolutamente falsa da respingere in qualche modo autorizzi qualcun altro magari più pazzo di te a fare l'equazione sionisti uguale a ebrei e con queste equazioni sappiamo come si finisce cioè è malissimo Senti Fulvio, il Cardinal Pizzaballa ad un certo punto parla della comunità cristiana di Gaza della testimonianza che stanno portando avanti in quel contesto molto difficile del prezzo, parlavamo di prezzo che ha pagato anche la comunità cristiana penso al fatto dell'ospedale anglicano bombardato adesso è probabile che lo sia per un razzo vagante ma comunque anche questa è una di quelle situazioni che ha, diciamo, suscitato grandi polemiche e grandi discussioni e poi appunto anche la chiesa di San Porfirio e poi anche recentemente la scuola cattolica insomma, voglio dire è stata toccata anche dalla guerra alla comunità cristiana noi tendiamo a dimenticare io lo tocco anch'io con mano quando capita di fare incontri la questione di Gaza è una questione complicata ma possiamo riassumere brevemente come si è determinata questa storia della striscia di Gaza perché questo territorio è rimasto così staccato dal resto della Cisgiordania e perché oggi ha delle mani di Hamas? beh, la striscia di Gaza è diventata dominio di Hamas dopo le elezioni del 2006 e qui, già su questo tema bisognerebbe essere un po' più precisi quando si parla, si va in televisione, eccetera perché si tende ormai a dipingere Hamas come una forza dominante all'interno della comunità palestinese e questo non è vero nel 2006 quando si dice normalmente ah, vinse Hamas è vero ma Hamas ottenne il 44% cito a memoria però insomma punto percentuale più punto percentuale meno 44% dei voti contro il 40-41 di Al-Fatah quindi non fu un trionfo come dire a mani basse in più Israele commise l'errore o fece la speculazione dipende di non lasciare di non concedere il permesso di arrivare a votare ai palestinesi rifugiati nei paesi intorno cosa che avrebbe probabilmente cambiato il risultato di quelle elezioni comunque sia successe che dopo il risultato che diede la vittoria a Hamas soprattutto nell'altriscia di Gaza sia l'Europa sia i paesi occidentali decisero di non riconoscere quella vittoria e altrettanto fece l'autorità nazionale palestinese della Cisjordania a Gaza come tu sai benissimo scoppiarono dei disordini una specie di guerra intestina e i rappresentanti di Al-Fatah furono cacciati e da allora la striscia è nelle mani appunto è controllata da Hamas quella elezione ebbe però a proposito dei prezzi che si pagano una ricaduta non solo nella striscia di Gaza ma anche in Cisjordania perché da allora in Cisjordania non si è mai più votato non ci sono mai più state elezioni e il mandato presidenziale di Abu Mazen che è scaduto nel 2009 è stato rinnovato come dire in automatico quindi si è creata anche in Cisjordania una situazione diciamo non non corretta ecco adesso non mi viene altro termine e e quindi le elezioni del 2006 si erano svolte dopo il ritiro decretato dal premier israeliano di allora Ariel Sharon della presenza israeliana da Gaza ritiro che avvenne nel 2005 e ancora andando a ritroso Gaza era uno dei territori occupati perché era stato conquistato da era inizialmente sotto la tutela dell'Egitto poi era stato conquistato da Israele con la guerra dei seggioni del 1967 questo per per fare una 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 breve diciamo cronistoria vorrei dire a chi va in televisione dicendo ma il numero delle vittime non conta perché io ho sentito frasi di questo genere che trovo totalmente allucinanti e che le volte in cui sono stato a Gaza io non ho avuto né la sensazione né l'informazione di una popolazione compattamente schierata con con questo movimento islamista bisogna tenere molto conto del fatto che Gaza ha Hamas ha il controllo totale su quello che succede a Gaza cioè controllo dei posti di lavoro controllo dei finanziamenti controllo dell'ordine pubblico quindi pensare che che ci possa essere nella popolazione palestinese di Gaza una qualche come dire possibilità di ribellarsi o insorgere eccetera è veramente o ingenuo o in malafede senti Fulvio Netanyahu dice che appunto ormai hanno conquistato Gaza City e rimarranno lì a tempo indeterminato e poi dopo forse riconsegneranno il territorio al Fatali e Abumazen insomma si stanno mettendo in campo diverse soluzioni per quello che potrebbe essere il il dopo intanto tu come vedi questa questa questione poi un aspetto che forse vale la pena di sottolineare per i nostri ascoltatori è il fatto che in una zona come Gaza cioè 10 km di larghezza per 40 km di lunghezza popolata da 2 milioni e mezzo di persone non esiste una guerra che non possa fare vittime civili perché è come vivere in un pollaio praticamente quindi ecco tu come vedi questa questa questione appunto di un dopo ammesso che ci possa essere qualcuno parla anche di qualcuno parla anche di mandarli via e di delocalizzarli in altri paesi questi questi due milioni erotti di persone che potrebbero andarsene chi dice in Egitto chi in Giordania in altri paesi arabi ma io intanto vorrei partire da quello che tu hai detto no cioè sulla sulla impossibilità di condurre una guerra a Gaza che non sia automaticamente uno sterminio di civili a Gaza la densità della popolazione è di 4000 persone per chilometro quadrato questo sulla striscia a Gaza City questa densità almeno raddoppia perché è una città affollatissima quindi quando ti dicono ah noi telefoniamo gli diciamo andate via e queste cose qua queste sono tutte come dire sono tutte pubbliche relazioni perché tu non puoi scaraventare delle bombe di quella potenza e dire ah ma io gli ho detto di andarsene quindi non non ha nessun senso è veramente una cosa insensata che non si può dire e io a proposito del dopo di Gaza io vorrei anche dire che ho la sensazione che per il momento al di là delle conseguenze sui palestinesi per il momento questa spedizione a Gaza serve anche a e quindi a prolungarla serve anche a tenere in piedi Israele perché non dimentichiamoci della situazione di Israele Israele è un paese dove poche settimane fa scendevano in piazza centinaia di migliaia di persone chiedendo a Netanyahu di andarsene chiedendo a questo governo di smetterla di cercare di mettere la mordacchia alla magistratura e alla Corte Suprema e quindi di limitare di rendere monca la democrazia israeliana non dimentichiamoci che questo governo Netanyahu è il governo più a destra nella storia del paese è un governo che ospita diversi estremisti rappresentanti di movimenti che erano addirittura stati banditi fino a qualche tempo fa il ministro della sicurezza nazionale che quindi è un ministro che ha clamorosamente fallito visto quello che è successo il 7 ottobre è noto perché tiene in salotto il ritratto del terrorista ebreo che ammazzò non so più quanti musulmani a colpi di Mitra questi sono i personaggi del governo attuale di Israele che ovviamente come abbiamo visto le dimostrazioni non rappresenta di nuovo tutto Israele però è chiaro che non si può immaginare dopo una guerra di questo genere che Israele combatte avendo istituito la censura militare quindi noi non sappiamo quanti soldati israeliani stanno morendo e ne stanno morendo perché a parte i nostri media sui media internazionali sui canali anche quelli che bisogna un pochino andare a cercare si vedono scene di combattimento a Gaza per strada non di un'avanzata liscia serena e tranquilla quindi voglio dire qui c'è anche il rischio che quando si sarà posata la polvere delle cannonate salti per aria a Israele perché è inimmaginabile che questo primo ministro possa domani continuare a governare tranquillo e sereno come se niente fosse stato per quanto riguarda i palestinesi di nuovo io credo che Israele e il mondo si scontreranno con la realtà storica i palestinesi non spariranno non se ne andranno non si trasferiranno tutti alle Maldive o sulla Luna come qualcuno pensa di immaginare e non andranno nei paesi intorno perché i paesi intorno hanno già i loro problemi e non vogliono un altro problema di questo genere non lo vuole l'Egitto non lo vuole la Giordania che i palestinesi hanno già avuto ben sappiamo quali quali problemi e quindi ripeto siamo di nuovo al discorso che faceva il Cardinale Pizzaballa cioè questa idea della vittoria che è un'idea che porta alla sconfitta di tutti ecco pace non vittoria il Cardinale Pizzaballa rimarca in maniera straordinaria anche il tema del perdono ma in questa situazione chiaramente serve davvero una purificazione su entrambi su entrambi i fronti usiamo questa questa parola impropria orrenda per la situazione appunto che stiamo che stiamo vivendo ecco Fulvio tu hai raccontato in molti casi anche di chi lavora per questi diciamo per superare queste barriere un altro degli aspetti che il Cardinale ha sottolineato è proprio il metodo di Francesco di andare oltre le barriere di superare le barriere psicologiche ma anche le barriere fisiche e di come dire ragionare sull'incontro allora tra l'altro proprio in queste in questi giorni ho sentito diverse volte anche dei missionari e delle missionari dei religiosi che lavorano in Cisgiordania e quello che mi ha stupito è che le associazioni alcune associazioni anche di ebrei israeliani penso ai rabbini per i diritti umani ai medici per i diritti umani agli avvocati per i diritti umani stanno intensificando la loro azione sul terreno a sostegno della popolazione palestinese allora si sta vivendo in Cisgiordania soprattutto una situazione paradossale da una parte i coloni degli insediamenti che hanno formato delle squadre diciamo ecco di stampo squadrista per poter fare degli interventi violenti su tutti gli effetti di vendetta sui villaggi palestinesi e d'altra parte questa parte importante di società israeliana che non ci sta ecco come vedi ecco tu dicevi prima il rischio di andare a sbattere che Israele salti ma quale strada suggerire quale strada intraprendere per cambiare radicalmente la rotta dal punto di vista politico è chiaro che i protagonisti di questa crisi devono andarsene se non se ne vanno devono essere rimossi tutti intendiamoci perché dal mio punto di vista sia Abou Mazin sia Netanyahu e non parliamo dei leader di Hamas hanno semplicemente inserito divisioni all'interno delle loro società in questa idea di arrivare ad una mitologica vittoria che per come la pensano loro non ci sarà mai hanno spostato le loro società su posizioni sempre più sempre più radicali certo facendo almeno propaganda di radicalismo no e in questo senso abbiamo visto che cosa è successo il progetto dell'ANP non decolla ed è in qualche modo controllato da questa diciamo gerontocrazia ben rappresentata da Abou Mazin che ha 88 anni ed è in giro ad alto livello in una politica palestinese dall'inizio degli anni 90 Netanyahu ne abbiamo detto Hamas è persino inutile parlarne ecco quindi diciamo i protagonisti di questa deriva devono essere auspicabilmente rimossi o se ne devono andare per conto loro dopodiché io credo che nella società israeliana l'abbiamo visto si parlava prima delle manifestazioni c'è una larga coscienza c'è una larga coscienza appunto che questo in fondo a questo tunnel c'è il disastro per tutti e che quindi bisogna in qualche modo cambiare strada purtroppo e qui centrano anche diciamo le responsabilità dell'Occidente soprattutto negli Stati Uniti in tutti questi anni si è permesso una come dire una politica di incentivazione dell'occupazione e ripeto risoluzione 242 del 1967 questa non è un'accusa a Israele questo è uno stato di fatto certificato dal diritto internazionale per cui oggi negli insediamenti nei territori occupati vivono 700.000 israeliani e anche queste persone che cosa che cosa potrei dire domani dopo che per anni 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 hai promesso 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 e più o meno esplicitamente fatto capire che ci sarebbe presa altra terra che ci sarebbero ottenute altre vittorie ecco cosa dici a queste persone adesso ve ne andate tutti tenendo presente che moltissimi di questi sono tra l'altro immigrati anche di recente o militanti molto convinti o immigrati di recente come dire ingresso in israele magari arrivati dai paesi dell'ex unione sovietica con niente a cui è stato dato comunque una sistemazione una casa eccetera e che quindi sono evidentemente ancora più come dire restiti 50.000 50.000 di questi in fuga dalla Russia e dall'Ucraina per esempio dalla guerra che si sta vivendo su quell'altro fronte questi sono diciamo in un certo senso sono dei rifugiati anche loro e quindi dico si è permesso la situazione di arrivare a questo punto per poi sentire questi appelli rituali che si fanno dappertutto due popoli due stati sì certo però questa è una cosa che andava detta e fatta vent'anni fa adesso è tutto più complicato quindi io spero che almeno tutti questi poveri morti che vediamo di cui abbiamo notizie servano a rimuovere i protagonisti di questa politica deleteria che è stata applicata fin d'ora sperando così che si aprano dei varchi ad una ad una ad una nuova coscienza cioè la coscienza del fatto che deve entrare nella testa dei palestinesi che Israele non sparirà ed entrare nella testa degli israeliani che i palestinesi non spariranno perché se non passa questa consapevolezza resta quello a cui stiamo assistendo resta la sparatoria continua Fulvio ti ringrazio tanto per questa chiacchierata e per averci chiarito alcuni punti fondamentali di questa situazione per aver contribuito appunto ad elementi di chiarezza ci sarà una prossima occasione ancora per tornarci sopra perché credo che una delle cose che possiamo fare è quella di tenere accesa appunto l'attenzione su quello che capita in quella parte del mondo perché ci riguarda da vicino io passo la parola adesso a Padredino per una conclusione per i saluti finali intanto saluto tutti i nostri ascoltatori io ho trovato molto molto interessante il il vostro dialogo prima ancora ho trovato puntuale preciso il video messaggio del cardinale Pizzaballa con il suo la sua distinzione così il suo mettere in guardia dal distribuire le ragioni e i torti prendendo le parti di una parte o dell'altra insomma no incoraggiando invece a domandarsi il Vangelo il Vangelo può esserci di aiuto in questa situazione e poi dicevo ho trovato molto illuminante per la chiarezza sia le domande di Giuseppe sia le risposte di di Fulvio certo le cose sono molto complicate un po' dappertutto nel mondo in questi giorni ma in particolare poi in quel pezzo di mondo un mare di odio diceva il cardinale Pizzaballa e sentivo che c'è però anche un c'è qualche isola di dialogo di solidarietà di saggezza ecco Neve Shalom per esempio io sto aspettando un articolo da pubblicare sul prossimo numero di Messaggero Cappuccino proprio da da quella comunità di Neve Shalom per sentire direttamente come vivono ecco questi questi momenti San Francesco si diceva ha inaugurato un metodo in tempi in tempi difficili anche quelli no il metodo del dialogo dell'ascolto vicendevole il cardinale Pizzaballa diceva è difficile parlare perché perché non ci si ascolta più ecco si lanciano bombe ma non ci si ascolta riusciranno 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 a recuperare saggezza questi questi responsabili no in modo da far sì che verità e perdono riescano ad abbracciarsi insomma la pace la pace sarebbe davvero la vittoria di tutti ecco perché anche da quello che avete sottolineato la vittoria di una parte è sconfitta di tutti comunque l'unica pista percorribile è la pace che sarebbe la vittoria di tutti questo è l'augurio che che noi organizzatori di questo di questo webinar intendiamo fare unita al ringraziamento e alla collaborazione di Giuseppe Caffulli di Terra Santa e di Fulvio Scaglione grazie di nuovo buona serata a tutti e grazie a tutti Grazie.